Una grande occasione per te Gianluca perché dal Chisola in eccellenza ha una delle piazze più importanti Serie C, il Pescara. Cosa ti aspetti? Mi aspetto molto da questa stagione, sono contentissimo e per me è motivo di orgoglio e di gioia questa opportunità che mi è stata data. Spero di coglierla al meglio e come ogni calciatore spero che si possa vincere tutto ciò che si potrà vincere. Guardiamo un po' le tue caratteristiche, classica mezzala? Classica mezzala sì, sempre giocato da mezzala fin da quando ero piccolino, tranne la scorsa stagione che per motivi di scelta tecnica ho dovuto giocare da play, ma devo dire che mi sono trovato molto bene, mi sono sentito a mio agio, ma per natura e caratteristiche il mio ruolo è sempre stato quello di mezzala e sono contento che quest'anno almeno per ora possa ripetermi in questo mio ruolo. Facciamo un passo indietro, un mese di giugno credo magico per te perché non molto lontano da qui, l'Aquila, la vittoria del campionato col Chisola, dopo un po' ti squilla il telefono del Pescara. Quando hai saputo che potevi venire in Cia a Pescara cosa hai pensato? La mia prima reazione è stata tremolio di gambe. Ho avuto un attimo la testa sulle nuvole perché mai avrei pensato mi potesse capitare un'occasione del genere, ma giustamente essendo io, avendo sempre giocato in eccellenza, non potevo aspettarmi di meglio, quindi una volta ricevuta questa chiamata io stavo alle stelle e non ho esitato un attimo a dire di sì e venire in questa piazza che per me, ora come ora, è un sogno. Ti dico l'ultima cosa, ti chiedo se ti sei allenato vicino ai grandi campioni della Juventus, sei cresciuto con quale idolo, che è una mezzala a cui ti sei ispirato? Il mio idolo è sempre stato Claudio Marchisio, anche lui è proveniente da Vinovo, infatti molte volte lui abbiamo visto al campo, ci abbiamo fatto amichevoli, ci abbiamo giocato contro e devo dire che essendo juventino da sempre il mio più grande idolo è sempre stato Marchisio e spero di poter seguire le sue orme.